25 ottobre 2015, in diretta dalla Margherita Black, Anthony! Facciamo più gli applausi, facciamo gli applausi! Buon pomeriggio a tutti, applausi al fuoco di Marangeli, ai miei più siccini a Uri. Grazie a tutti voi, un applauso fuoco, vai! Buon pomeriggio a tutti, applausi al 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 fuoco, vai! Applausi e raggiungi! Applausi e raggiungi! Applausi e raggiungi! Applausi e raggiungi! Applausi e raggiungi!